Occorre una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, più controlli e un'adeguata formazione del personale, soprattutto dove vengono svolte mansioni a rischio di infortuni. La vita è sacra e va tutelata, non è possibile assistere inermi a queste stragi silenziose. Con queste parole l'UGL ha espresso il suo cordoglio alla famiglia di Michele Santoriello, l'uomo di 47 anni, originario di Cava dei Tirreni, che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sul posto di lavoro a Salerno. Sarà un'inchiesta a fare luce su cose accaduto nel cantiere di via Cappello Vecchio presso il deposito industriale Ex Penitalia, dove l'operaio lavorava per un cantiere edile in un intervento di manutenzione. Un volo di 6 metri è stato fatale per la vittima, nulla è valso il tentativo di salvarlo sia dei colleghi che dell'ambulanza giunta allertata tramite i 118. Sul posto anche i carabinieri, oltre che gli ispettori del lavoro e dell'ASL, che dovranno verificare il rispetto di tutti i dispositivi di sicurezza. La morte dell'operaio è sarata l'occasione per l'UGL di rilanciare la manifestazione Lavorare per Vivere, che è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste e dilagante fenomeno delle cosiddette morti bianche. A dichiararlo Paolo Capone, segretario generale dell'UGL Gaetano Panico, segretario regionale del sindacato in campagna, proprio in merito all'incidente sul lavoro registrato ieri a Salerno.